Il grande valore che la riqualificazione della Villa Reale ha, non solo per Monza o per Milano, ma io credo che lo avete sottolineato nei vostri interventi per tutti noi. In un momento, lo diceva prima Claudio D'Alberti, è così difficile. Io rapidissimamente colgo tre questioni che voi avete sottolineato. La prima, perché non è solo per Monza e Brianza, il valore del recupero e del modo in cui si sta recuperando la Villa Reale. Perché noi abbiamo un'unica grande risorsa e non dobbiamo dimenticarci. Mai, nonostante i tempi, i momenti, le difficoltà. E non a caso il sindaco di Monza diceva, guardate che ministro qui, e io sono di queste parti, nessuno chiede aiuti, risorse, assistenza, eccetera. Se si chiede solo una cosa, lasciateci fare, permetteteci e metteteci nelle condizioni chi è capace, chi ha, chi può dare di giocare la propria partita. Che cosa vuol dire? Che qual è la risorsa che abbiamo, su cui noi dobbiamo continuamente spettare. E questo ne è l'esempio.